Allora, buonasera, siamo qui con Raffaele Auriemma, ha ottenuto il suo scopo stasera, poteva anche già uscire dal campo, ha segnato la rete a Francesco Giovino, portiere di categoria, ha segnato al Bruco Team. Che categoria? Ha giocato nel Nola, nel Savoia, come dice lui, ma non sappiamo. Nel Nola dei Pulcini? Non lo so. Nei Pulcini? Ah, io sono qua, comunque. Stavo guardando anche la partita, ma non mi non so. Ho preso un altro gol? No, no, non ho ancora. La mia partita già l'ho vinta, segnando questo gol a questa squadra di fenomeni, per me è come se avessi minuto. I primi dieci minuti l'avete fatto soffrire. Per me è come se avessi minuto, ma in lista ho visto come è spogliato uno dei fratelli a Di Molfi, Matteo, ma non gioca, non gioca Matteo. La differenza è di un altro capitano che ha anche segnato. Matteo non gioca, vieni a incuadrare un po' Matteo, 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 in guarda, in guarda Matteo. Matteo, scusi, questo è Bruco, non si è spogliato il Bruco? Hanno segnato, Matteo. Bruco non si è spogliato? Ma io è marcando però, Matteo, 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 perché non giochi? Quando si stai anche io. Quando? Tra poco, tra poco. Cerca di andare. E tu? E tu non giochi? No, no, gioca la prossima partita. Non sto fatto male. Infatti, dobbiamo umiliare. Il nostro obiettivo era di quelli portarli ai quarti e poi se lo vedevano loro. L'abbiamo fatto e siamo a posto. Ma che fa l'avete segnato? Ah, lo so. Che c'è faccio? Festeggio. Abbiamo fatto un altro gol. Perché sei tutto? Ah, fai, ma tu un mese qua, mi hai messo? Eh, si va a trasmetterla, suuri. Bravo. Ok, dai. Eh, per te, tra. Portiamo a chiudere e aspettiamo l'ingresso di Matteo, allora. Sì, io voglio entrare solo quando entro Matteo. Vabbè, ok. A dopo. È vergognoso che il capitano di una squadra del Bruco Team non entri in campo nemmeno per un minuto. C'è da vergogna sì. Basta, questo è chiuso. La risposta è il capitano. 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 Uno, uno. Il capitano non risponde, Raffaele. Il capitano ha detto Raffaele Auriemma. Raffaele Auriemma e Marco Auriemma hanno mai giocato, non possono parlare. Io ho fatto otto reti, vai a vedere sul tabellino. Uno dei capocannini del torneo. Adesso sto facendo giocare i miei uomini perché io ho giocato già tanto, tanto. Mi ho portato ai quarti. Ma il guardalini questo può fare in questo torneo, giusto? Potrò solo fare i guardalini. Eccolo qua, eccolo qua. Perché è andato a mare. Puoi fare solo i guardalini. Questo è rimasto a fare i guardaline. Comunativo, signore. Per il blu, per il blu. Non è comunativo. Presidente. Non è comunativo. Non vinceremo questo confe. Anche il presidente. Presidente. Tutta la terza arbitraria contro. Tremi che l'altra squadra di Pagliari. L'arbitro ufficiale. Tutta la partita. No, Andre, non mi fesse già, Arou. Non mi fesse già. Non mi fesse già, ma mi fanno il resto del Jack. Chi dà? Arou, sto orlando, orlando. La telecamera è solo su di lui, vai giù. Solo su di lui, la telecamera. Raffaele, la resta o no, Raffaele. Ah, Guantonelle, ma c'è per la Guantonelle. Ah, non puoi parlare. Ma le dà in avanza, ma. Oh, è già sicuro. Calma, Ennio, calma. Guarda là, guarda. Ma! Ancora, ancora il capitano. Ma roba. Uno. Uno. Mamma mia! E' munizione. Ma basta, tre boppure. Ehi, c'è, c'è. Ehi, c'è, c'è. Basta, tre boppure. Ma, segnalatevi che si è. Giò, cazzo. Ma pure i contro tutti e c'è. che perla ammusegnare prima ma ti metti calmo poche acqua ma no ti sei stancato poche acqua ti sentebisa ahahah 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 ma che ho il video devo vedere è il video come se io ho capito bravo invece fu furtina ahahah 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 una parola una parola che sono superiori sono superiori e dopo vinco quando entro il totello è il massimo e a volte faccio anche il freddo pubblica da voi sentiamo la copricola la copricola